La 43esima edizione di Vini Milo si conferma un grande successo con gli oltre 40.000 visitatori nei due weekend in piazza e circa 2.300 partecipanti alle masterclass di sommelier assaggiatori professionisti. Nella sua duplice anima di evento legato alla festa prevendemmia ed enologico per i professionisti del mondo del vino sull'Etna, Vini Milo è una manifestazione ormai matura ma che non smette di introdurre novità come è stato quest'anno con in alto i calici che ha trasformato la terrazza panoramica del municipio di Milo in uno spazio di degustazione su prenotazione riservato all'Etna bianco superiore e ai vini del territorio di Milo. Una formula che abbiamo sperimentato come primo anno mette fondamentalmente in risalto tutti i vini prodotti sul territorio di Milo. Si può definire un privè sulla Vini Milo che risalta tutti i vini prodotti sul territorio di Milo soprattutto gli Etna bianco superiore. Etna bianco superiore che dall'Etna bianco doc si distingue nelle percentuali di 80% minimo caricante e 20% che può essere o sempre caricante o catarratto o un altro vitigno ammesso da disciplinare. È stato un esperimento in alto i calici molto interessante appunto perché c'è stato molto movimento qui sulla terrazza sulla piazza di Milo e abbiamo fatto un sold out praticamente. I vini sono molto richiesti, c'è la possibilità di parlare direttamente col produttore, molto interessante per il pubblico che chiede nello specifico come sono composti i vini, cosa è successo in un'annata rispetto ad un'altra e per noi è sempre un piacere raccontare le nostre realtà della vigna. Il primo bilancio della Vini Milo è sicuramente positivo, questa 43esima edizione ha suscitato sempre grande interesse, tanti curiosi, tante persone che si avvicinano al vino ma anche tante persone competenti. Ovviamente oltre ai vini di Milo abbiamo tutti i vini dell'Etna e anche Val di Noto, diciamo che la Sicilia è ampiamente rappresentata. E Vini Milo è anche una palestra per i giovani sommelier e assaggiatori di vino che vi prestano servizio. Questa serata è molto interessante in quanto ci dà la possibilità di stare a contatto direttamente con le persone, descrivere i vini, descrivere appunto le cantine, anche stare le persone che assaggiano il vino a contatto e chiedere informazioni anche ai produttori stessi. È molto interessante e molto anche formativa sia per le persone che vengono a degustare il vino e sia anche per noi, per conoscere sempre di più produttori, cosa producono, la qualità che producono e la qualità soprattutto che si produce sull'Etna, perché i vini dell'Etna sono binomio di qualità. Un evento che ha celebrato il vino in tutte le sue espressioni, sino agli spumanti, i vini licorosi e i distillati e che ha previsto convegni scientifici e un confronto fra i diversi attori del mondo vinicolo, produttori, amministrazione, proloquo e le varie associazioni che hanno consentito la realizzazione di vini milo, fra queste Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna, Ice, Fiss, Fissar, Onav, Apos, Low Food, Consorzio Etnadoc e MindArt. 43 edizioni di una manifestazione che è andata sempre a migliorare i contenuti culturali, è stato un motore importante di sviluppo per l'intero territorio. Abbiamo registrato negli ultimi anni un incremento delle aziende che hanno investito su un milo, siamo passati da pochissime etichette che si imbottigliavano dieci anni fa, adesso l'altra sera abbiamo fatto una degustazione con 19 etichette e ne mancavano sei, quindi siamo arrivati a 25, quindi questo significa che un sacco di aziende hanno investito e questo chiaramente grazie anche a Vinimilo che è stato un motore di promozione del territorio.